Maria Cristina Filippini è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio e furto. Questa è la sentenza arrivata dopo un'udienza durata oltre 4 ore, pronunciata alle 13.40 di oggi dal giudice Gian Andrea Bussi, al termine del processo di primo grado per l'assassinio di Anna Giuliana Boccenti, madre adottiva dell'imputata. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti. Il pubblico ministero Emilio Pisante poche ore prima aveva chiesto 16 anni e 8 mesi di reclusione per la 49enne di Castel San Giovanni, accusata dell'assassinio della madre, soffocata con un cuscino al termine di una furiosa lite. La difesa, rappresentata dagli avvocati Leda Marzia e Alessandra Salvadè, aveva chiesto l'assoluzione dell'imputata. Dopo la sentenza i legali stanno valutando la possibilità di ricorrere in appello. Il processo si è tenuto con il rito abbreviato che consente lo sconto di un terzo della pena. Maria Cristina Filippini era presente in tribunale, così come i suoi familiari, le figlie e il marito, che le hanno mandato un bacio da lontano, a cui la donna ha risposto mentre attraversava il cortile del tribunale, scortata dalle forze dell'ordine. Il delitto risale alla notte tra il 3 e 4 febbraio 2013. La Filippini aveva dichiarato agli inquirenti di aver raggiunto l'appartamento della madre in via Vameli, dove viveva sola, con l'intento di chiarirsi con la donna, dopo un diverbio esploso tra le due lo stesso pomeriggio. La visita si era invece trasformata nuovamente in litigio e poi in aggressione. Maria Cristina Filippini aveva immobilizzato l'anziana sul letto, premendole il ginocchio sull'addome, e poi le aveva posto sul volto un cuscino fino al tragico epilogo. A fare da sfondo al delitto di Castel San Giovanni il vizio del gioco d'azzardo. L'inputata risultata essere dipendente dal gioco, una patologia che, secondo la perizia di parte, ha messo in discussione la sua capacità di intendere e di volere. Lo stesso gioiello rubato alla madre era stato rivenduto poche ore dopo a un comproro di Castello, proprio per ricavare i soldi da spendere nel gioco d'azzardo. Diverso il parere dello psichiatra nominato dal Tribunale, il quale ritiene che il movente del crimine avesse origine nei difficili rapporti tra madre e figlia adottiva, incrinati da anni. La Filippini, dopo l'omicidio della madre, aveva messo a soccuadro l'abitazione e rubato la catenina d'oro e i contanti nel tentativo di depistare gli investigatori. Messa alle strette dagli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri, pochi giorni dopo aveva confessato di essere l'autrice dell'assassinio.